Ho cercato di proteggere Antonella perché in qualche modo questo era il mio sentire, proteggerla, di supportarla, di sostenerla come... E non ti sei sentita protetta a tua volta? E beh, visti i commenti, viste le dichiarazioni, le affermazioni che ha fatto lei, addirittura ad arrivare a dire che io le faccio schifo, credo che si stia esagerando, mi dispiace perché fino a qualche giorno prima lei mi aveva detto addirittura che mi voleva bene, ma devo pensare che insomma erano soltanto delle falsità. Antonella, tu hai detto che Licia è falsa e lecchina, parole tue. Che cosa ti ha ferito di più di tutta questa storia alla fine? Se ti ha ferito, perché poi non hai detto che qualche cosa debba ferire. Alfonso, mi vergogno perché tutta questa scena... Perché non ti senti ferita. No, 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 mi vergogno di tutta questa scena. Io mi sono sentita tradita, io mi sono sentita presa in giro, mi sono sentita che Licia in realtà ha subito scelto un'altra persona, altre persone. che cosa ti ha ferito. Grazie a tutti